In questa lezione tratteremo la farmacologia delle droghe. Valuteremo le droghe, ma generalmente dal punto di vista farmacologico, quindi il meccanismo di reazione che si determinano, e faremo anche un po' di storia delle droghe. Le droghe sono sostanze che alterano il nostro essere a tutti i livelli, a livello biochimico, in quanto alterano tutti i metabolismo biochimici che sono alla base delle nostre cellule particolari nervose, e che si ripetono a livello psicologico perché viene alterata la presentazione mentale, compartamentale dei meccanismi cerebrali, ovvero delle funzioni delle cellule nervose, e ciò compromette a nulla gli crisi psicologici e alla capacità di allattamento dell'individuo. E come comprenderete, questo determina anche un'alterazione a livello sociale, con conseguente immaginazione dal tessuto sociale dell'individuo. Possiamo avere una classificazione delle droghe, ma di tutto in relazione agli effetti. Infatti possiamo avere i stupefacenti, come la morfina, la cocaina, o stimolanti come l'acqua e le affetamine, ma anche il tabacco, il caffè, il tè, o anche sedati ignotici, come le benzodiazepine, i barriciulici, in impianti come l'alcol, o alcinogeni come l'LSD, la shish e l'anagriana. Qui potete vedere la prima martedra che tratteremo, sono l'occhio e i suoi derivati. La pianta che vedete rappresentata sopra è il Papalodon sonniferum album. Si presenta la prima con un fiore, allungando del paio che si comincia a formare la capsula, che matura, e qui è già maturata, e invece entra a sudare la sostanza lattiginosa, che si estrae, appunto, dalla pianta dell'occhio e che contiene la miscela dei denti, si chiamano alcaloidi, ovvero sostanze attive a livello del sistema nervoso centrale e che determina anche gli effetti eucalizzanti che voi sapete. Praticamente la pianta dell'occhio viene utilizzata da secoli, addirittura, saliamo a 4.000 a.C. dopo i sumeri. Uno degli effetti degli estratti dell'occhio è quello di essere seditivo della tosse, infatti va agire sui centri della respirazione, calmando la restrizione, la ventilazione polmonare. Infatti molti dei decessi da roda e tosse sono dovuti proprio all'insufficienza respiratoria. Come vi dicevo, già dei sumeri nel 4.000 a.C. utilizzarono gli estratti della pianta dell'occhio. Fin quando parliamo di pianta dell'occhio, parliamo comunque di concentrazioni delle sostanze psicoattive basse rispetto a quelle che poi verranno ottenute in segno quando viene isolato il farmaco erettorio. Il farmaco principe, cioè quello che è più comune, più famoso ad attività attivo a livello del sistema riposo centrale, è la colfina che è contenuta della pianta dell'occhio. Un abuso vero e proprio nasce storicamente con l'era industriale, l'inghilterra dell'era industriale che disponeva come colonia dell'India e le basse di mangiaggione dell'occhio dell'India e quindi addirittura l'occhio era addirittura più economico, cioè per gli operari dell'inghilterra industriale era più facile comprare l'occhio che non l'occhio, perché era più economico, più a basso costo. E infatti lì l'abuso sempre di pianta grezza, stiamo parlando, era molto diffuso. E quando poi non viene isolato il principio attivo che è la morfina, intorno all'Ottocento, e viene anche inventata una silinga ipodermica per poter iniettare la morfina endorina, che è la bomba delle vie, è la via di elezione, di assunzione del tale farmaco. Io parlo sempre di farmaco e come vedete lì, io parlo della morfina, anche in generale della pianta dell'occhio, veniva definita dai sumeri come medicina di Dio. Quando viene isolata e viene inventata anche, dicevo, la silinga ipodermica, viene utilizzata nella terapia del dolore, per attivare i dolori. Pote le vittime della storia, sempre in quasi tutte le guerre, sono i soldati che fanno, diciamo, un po' da cave da laboratorio per tutti gli esperimenti. La Baia, nel 1298, annuncia al mondo di essere pronta a lanciare sul mercato un nuovo farmaco, che, come vedete, viene lanciato con una campagna pubblicitaria molto intensa. Volantinaggio, certo per l'epoca, per i mezzi dell'epoca, volantinaggio, manifesti, venivano regalati a fiale ai medici per diffonderle. Venivano presentati a questo nuovo farmaco come un farmaco che contro tutti i dolori, se davino della tosse e per la cura dei tossicomoni. Avranno creato la decetimorfina, ovvero l'eroina. Il nome eroina è dovuto al fatto di la Baia sostenerà che questo farmaco può procurare il dolore in maniera eroica per questo eroina, cioè la dose inferiore rispetto alla morfina e senza dura indipendenza. Ma che è dovuta la diversa azione della morfina? Strutturalmente sono quasi simili. Sono quasi qua. Questa è la morfina e questa è l'eroina. La differenza sta nei gruppi che ho cercato. La morfina porta gli gruppi OH in queste posizioni. E invece la morfina porta i gruppi acetili, circa i 13 O. L'eroina abbiamo detto che è la diecetimorfina. Il suo colore può variare. Questa è una dell'eroina pura, che è quella bianca, che è l'eroina floroibrato. Oppure l'eroina messicana, la del carno, che è questa prima di ero presentato qui. Le modalità di soluzione possono essere qualifici. Abbiamo quella direzione, l'eroina, questa peggia, e la mia dolosa. Poi però può essere anifimata, inalata e assumuta oralmente. A seconda della tipologia di farmaco, io lo chiamo senti farmaco perché nasce con il farmaco, l'abbiamo visto prima. Viene lanciata dalla bianca insieme all'aspirina. Contemporaneamente la bianca che ci fa sia l'eroina che l'aspirina. Abbiamo due tipi di tossicità, da droga in generale. Tossicità acuta, ovvero l'overdose, e tossicità cronica, che sarà quella simbola di testenza. Valutiamo gli effetti dell'interdosaggio, quindi dell'effetto della tossicità acuta, l'overdose. Può determinare depressione respiratoria, che può portare a molte, per insufficienza respiratoria. Come? Perché vengono inibili le funzioni del sistema nervoso centrale. Enemicelebrale, ischemie, sia cerebrale che cardiaca, depressione cardiovascolare. La simbola di assidenza, dicevamo invece, è la tossicità cronica. E si aspera la sospensione della soluzione abituale di droga. E si può manifestare con lo sviluppo di sintomi come ansia, irritabilità, lacrimazione, secrezioni nasali, alterazioni sessuali, voluto, diarrea, caticardia, interdattito del cuore, per tensione, insufficienza regale, per insmodazione dell'antitaina e anche delle antifetamine, perché è più nude. Praticamente, normalmente una persona, quando riceve uno stimolo positivo, lo dicevo prima, rilascia dei neurotrasmettitori in base. In questo caso parliamo della dopamina. Quando noi riceviamo un stimolo positivo, rilasciano che le neurologi rilasciano dopamina. Però, naturalmente, quando lo stimolo cessa, termina, ha una sensazione di benessere eterna, se il nostro organismo ricicla la dopamina liberata, si chiama Reactake, Reactake della dopamina. Che cosa fa la cocaina e anche le antifetamine? Broccano il Reactake. Quindi la cervella rilascia la dopamina, ma si accumula, non viene mai reciclato. Guarda, appunto, l'ecaica era molto lusso della cocaina e nel corso della storia si diffonde attraverso i vari cefi e le varie epoche. Fino a quando Angelo Mariani, un chimico di radio dell'Ottocento, pensò di sciogliere un estratto della pianta della coca nel vino, creando il cosiddetto bimbariani. Cosa faceva questa pianta? Una bimba tonificante, usata addirittura in medicina, per combattere la depressione e ogni disturbo fisico, dall'antivore alle attrezioni nervose, all'impotenza all'insonnia, dall'anemia alle febbre a molti di tipo contagioso. La cocaica può essere trovata in varie forme, salificata con acido cloridrico, quindi sale cloridrato e in forma di polvere, o come base libera, in forma solida, la free base, quello che è noto come free base. Ogni modalità di assunzione determinano la quota di farmaco che arriva al cervello diversa. Vi dicevo, la via indolema, mentre nella tenda circostanquini e quindi far arrivare al cervello la quantità maggiore di farmaco, la via inalatoria, fumata, poter formare la cocaina come si dice il crack o la via orale, è una quota minore. La più facile di assunzione della cocaina è quindi anche la più diffusa e quella inalatoria.